la direi bella è la parola che caratterizza l'inizio di questa nostra seconda ora bella storia era la canzone di Fedez che abbiamo sentito bella canzone bella cantante devo dire anche Miley Cyrus con Nothing Breaks Like Art e bella situazione quella che ci apprestiamo a vivere perché vi avevamo anticipato all'inizio della trasmissione che avremmo avuto un ospite importante ed è arrivato il momento di presentare Max Pezzali ciao ciao Clarissa ciao Antonio ciao ciao ben ritrovato allora qualcosa di nuovo è il titolo del tuo nuovo lavoro appunto io ho guardato un po' anche i titoli oltre ad aver ascoltato alcune canzoni e c'è un po' di nostalgia noi c'eravamo siamo quel che siamo il senso del tempo quanto c'è di questa atmosfera in questo disco quanto è vero quel che ho percepito assolutamente vero nel senso che il tema del tempo che passa è uno dei temi fondamentali no nel nell'album c'è un uno sguardo nostalgico come dicevi giustamente ma c'è anche uno sguardo al futuro perché il passato non viene mai vissuto come sempre e solo qualcosa di mitico e di irripetibile ma dato che il mio tempo lo devo mettere in relazione con il tempo per esempio di mio figlio della sua generazione con la quale ogni giorno quanti anni ha adesso? adesso ne ha un bel dodici e quindi è nel pieno della crescita e quindi io devo rapportare il mio mondo con il suo per fargli capire che tutto sommato non è che fosse tutto che noi fossimo più furbi o che loro siano un più insomma strani e vuoti anzi era era complicato il nostro tempo per crescere come è complicato il loro e loro devono imparare a raccontare la loro storia senza paura. Senti dovendo fare da tramite quindi questo spiega il motivo della presenza di Johnny Scandal tra i featuring del tuo del tuo nuovo album credo che tuo figlio in questo senso insomma ci abbia messo un po' del suo. Lo zampino. Assolutamente sì nel senso che colpevolmente non conoscevo diciamo la produzione di Johnny Scandal prima che mio figlio me la segnalasse però mi è venuta la curiosità perché vedendo insomma appunto il mondo di Johnny Scandal che veniva dall'emo trap insomma poi mi sono incuriosito e ho cercato di avvicinarlo proprio per perché volevo scrivere una canzone in cui si mettessero a confronto i due punti di vista e quindi l'idea era proprio quella di creare un ponte ideale tra la generazione mia dei genitori ormai un po' boomer e come diciamola così e i ragazzi di oggi. Senti Max c'è anche l'amore vissuto in maniera più matura più consapevole rispetto ai tempi di ma come mai no non quell'effetto scioccante della bellezza dirompente ma la complicità che emerge l'amore e anche l'amicizia più consapevolezza. Gli anni passano. Verissimo. Gli anni passano cambiano le situazioni di vita. Uno passa da fidanzato a sposato quindi cambia proprio le dinamiche ma questo non toglie importanza all'amore. L'amore semplicemente è un po' più appunto come dicevate giustamente più consapevole e è più una un'alleanza nei momenti difficili perché crescendo con l'età i momenti difficili si moltiplicano e non puoi avere solo un partner o una partner lì belli da vedere un grande cuore tutto a posto bisogna allearsi per affrontare le piccole grandi battaglie di tutti i giorni e questo è un po' il senso dell'amore maturo. Mi piace molto e anche l'amicizia ha questo valore mai come in questi mesi abbiamo imparato magari a distinguere anche le persone che ci tengono di più e davvero a noi da quelle con cui avevamo dei rapporti più superficiali non è così? Verissimo credo che tempi difficili come quelli che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo ci aiutino a mettere a fuoco le cose essenziali quelle che contano veramente appunto l'amicizia vera un rapporto sentimentale vero che appunto si trasforma specie quando poi devi vivere in lockdown o in situazioni complicate lì devi proprio creare un'alleanza devi essere una squadra ecco devi fare squadra e lo stesso vale con l'amicizia gli amici sono quelli che in 30 anni 40 anni magari per chi è più vecchiotto che ti accompagnano sempre e magari anche se non li senti tutti i giorni sono lì se non li vedi fisicamente tutti i giorni basta esatto basta un messaggio senza senza premesse su una chat di whatsapp con che ne so questo è ah ok ah figata e sai che ci siamo cioè noi sappiamo che ci siamo vicendevolmente è una bella cosa quasi magica allora il nuovo album di max pezzalli lo ripetiamo si chiama qualcosa di nuovo è uscito lo scorso 30 ottobre 12 canzoni max a proposito c'è anche il featuring dj axe tra l'altro no 70 80 90 2000 assolutamente è un tuo amico assolutamente è vero è vero è verissimo perché il numero è uno scioglilingua ma rappresenta appunto i quattro decenni eh che io ho raccontato appunto per rapportarmi con mio figlio per farvi vedere che in fondo quando gli dicono guardate che ai nostri tempi eh era tutto bello era tutto perfetto sono i vostri tempi che fanno schifo siete voi che fanno schifo dico non è vero perché guardate che negli anni settanta era molto dura negli anni ottanta c'è eravamo dei deficienti anche noi ecco e quindi eh non ci non ci esimiamo dalle nostre responsabilità voi semplicemente affrontate il vostro tempo con la vostra diciamo con le vostre capacità la vostra voglia ma è chiaramente per raccontare questo axe è è quasi un fratello eh siamo quasi fratelli da madri diverse perché eh abbiamo vissuto gli stessi decenni eh nello stesso cioè da punti di vista un po' diversi ma sappiamo eh conosciamo bene l'argomento e quindi quando ho bisogno di un fiancheggiatore per raccontare certe cose eh mi rivolgo sicuro a lui perché in qualche modo so che eh capisce mi risponderà e mi aiuterà esatto ecco Max un'ultima cosa questo è un periodo lo abbiamo ripetuto e non c'è bisogno di sottolinearlo complesso per il mondo della musica anche perché insomma tu in condizioni normali saresti qui con noi in studio invece dobbiamo collegarci eh via web e via web tanti artisti fanno la musica sappiamo anche attraverso i social sono molti quelli che intrattengono con la chitarra con la voce fanno compagnia tu cosa ne pensi di un possibile crowdfunding cioè di ehm rendere ehm dal punto di vista monetario redditizio questo in modo da poter così contribuire soprattutto alle maestranze del mondo della musica con dei piccoli contributi dei fruitori di questi video e della musica utilizzate in modo diverso beh io sono sempre dell'idea che tutto sommato alla fine tutto cioè qualsiasi cosa è meglio di niente no cioè qualsiasi cosa eh qualsiasi iniziativa è meglio dell'assenza completa di eh musica al vivo eh e di musica che permette appunto come dicevi giustamente di eh sopravvivere a a a tutti i lavoratori del settore è però vero che eh appunto quindi qualsiasi cosa eh ben venga eh sperando però di tornare presto alla vera dimensione della musica che è il live eh non c'è niente che possa sostituire completamente o o surrogare l'esperienza del live perché il live è sudore è cantare tutti insieme è stare appiccicati è esattamente quello che non si può fare adesso quindi noi dobbiamo tenere duro eh aiutare i lavoratori del settore e sperare di poter arrivare più presto a al più presto eh a calcare nuovamente i palcoscenici di tutta Italia e di tutto il mondo. Max un'ultima cosa prima di andarcene visto che siamo in in epoca di incontri virtuali anche quello che ti riguarda sarà un incontro virtuale con i fan il prossimo dodici novembre alle diciotto e trenta una esclusiva diciamo così a chi acquisterà il tuo nuovo album su feltrinelli.it o su ibs.com acquistandolo si riceverà un codice per poter accedere a questa unione virtuale che comunque insomma come dicevi tu in momenti come questo meglio qualcosa piuttosto che niente insomma no? Esattamente ci sarà la possibilità appunto di connettersi io sarò eh nella in una libreria feltrinelli qui a Pavia quindi sarò più vicino possibile a casa e eh però ci sarà la possibilità per chi appunto si connetterà di interagire eh con me insomma cercheremo di sostituire il classico firma copie certo eh di una volta ormai potremmo dire con un un evento virtuale che possa in qualche modo permetterci ancora di eh di stare insieme e di e di interfacciarci certo. Grazie Max Pezzali. È stato un piacere. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie finite a voi. Grazie davvero e buon proseguimento a tutti. Ciao. Ciao Max e chiudiamo questa questa chiacchierata piacevolissima ascoltando ovviamente la canzone del titolo all'ultimo album di Max Pezzali. Questa si chiama qualcosa di nuovo.